...di Roma, un percorso musicale che parte dagli anni 70, 80, 90, 2000, 2017 e le novità del 2018 e allora voglio sentire l'uno di tutti quelli nati negli anni 80 a Bucciardi, ovviamente nella strada del vintage e quindi voglio sentire l'uno di tutti quelli come me nati negli anni 70 Bucciardi, sicuramente pochissimi di voi sono nati negli anni 60 C'è qualche vecchio pure fratello, eh? Vabbè, nessuno, mi auguro che nessuno di voi sia nato negli anni 90 Vabbè, fare ancora tempo a cambiare locale, eh? Vabbè, nessun ragazzino, insomma, attenzione Vediamo se siete pronti, vediamo se siete pronti Amici delle terrazze, buonasera a tutti! Voglio fare un applauso personale a mio amico Schicchi che ha fatto una serata Virgin e pavolosa e voglio sentire l'uno di tutti gli amici della Virgin Allora, il primo applauso della serata lo facciamo al DJ che vi ha prediscaldato con i fatti degli anni 70 Un applauso, DJ Franco Shankly Vabbè, il DJ della Virgin l'abbiamo sentito fino all'inizio, è vero? Bravissimi, bravissimi Bene, facciamo entrare loro Loro sono quattro, sono bellissimi Sono le ballerine delle terrazze Loro sono le vintage angels, un applauso! E gira tutto intorno alla stanza Mentre si danza Danza Voglio vederti danzare Grazie a tutti!